ciao amici combattiamo stasera insieme al vostro marco trans per la vittoria facciamo qualche piccola partitella call of duty vanguard è uscito il season pass 2 la seconda stagione eccoci qua vicini vediamo un po se marco trans sa ancora sparare playlist di san valentino ok uccisione confermata pc playstation e xbox un po tutto un po tutto sta mappa la conosco io vorrei provare a usare mouse tastiera ma non è il caso di stasera ai 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 caramba i biglietti di san valentino dai parca la miseria volevi dai impegno usare mouse tastiera ci stanno mettendo sotto io lo so già che se mi sposto a cosa ho detto che cosa vi ho detto raga cosa vi ho detto lo so già che se mi sposto mi e me mi segano shat le faka ora hai preso la piastrina né piccio dai cazzo ma quanto ti vuole far morire tu stu scemoni sono fermi feri lancio una termite il ragazzo è lanciato sto a termite dai marco riflessi di bradipo Sì, sì. Ok In te dice qualcuno eh Ok. Lanzo una termite! Nuove informazioni pronte all'uso! Da dove cazzo è saltato? Ha fatto il giro sto stronzo! Bella ragazzi! Mi raccomando di iscrivermi eh! Così so che siete qui con me! Sto provando a... Cazzo! Porca loca! Destra e sinistra mentre non ammazzono! Altra uccisione confermata! Ottimo! Lo volevi eh! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Cazzo di minchia! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Cazzo di minchia! Dai cazzoide! Due ce n'erano! Incoglioniti! Nuove informazioni pronte all'uso! Questa è un'uccisione confermata! Ho quello che ci serve! Porca! Stronzo! Mi è venuto dietro, mi è venuto! Qui c'è una cassa di scorte! Granata in arrivo! No! 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 Stronzi! Due biosegati! Raid aereo nemico in arrivo! Ma si mi piace un cazzo! Eheh! Porca loca! Ma se io ti ho sparato uguale! Non è tale da guardi! No! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Basta stronzate e combattete! Dai! Sti cazzoidi! No! Dai, stiamo perdendo! Ahahahah! Attenzione! C'è una bomba planante nemica! Dai cazzo! Ma è possibile che c'è sempre qualcuno? C'è sempre qualcuno! Incredibile! Vado in giro in due sti qua! Sempre! Uuuuuh! Uuuuuh! Bomba in arrivo! Al riparo! Ma va! Fa' un culo questa zona! Bomba planante nemica in volo! Benvenuti! Aaaaaah! Peccato! Barbaro! Pesco! En photo! che culo sì 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 grande la prima partita già ti fai vedere bella lì Ok, ok. Ok, ok. Perché sto sparando? Ok, ok. Allora, io curo queste due. Porca puttana! Una bomba aplanante tutta per noi! Ok, ok. La postazione è attiva! La postazione è nostra! Controlliamo la postazione! Allora, allora, allora. Eccoli, eccoli! Dai, è arrivato uno da dietro! Non sapevo dov'è la postazione. Ma che cazzo è la postazione? Non si fa andare sotto lì! Non si fa andare sotto lì! Non sono mai andato sotto! Oh, cazzo! Uno da dietro! Non si fa andare sotto lì! Eh, vabbè... Postazione localizzata! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Hanno un cane da guardia! Postazione è attivata! Ok, come per me! Se il nemico lascia una bomba aplanante! Poglie! Dovino di quella... Chia miseria! Oh, non sono mai riuscito a fare una roba del genere in tutta la mia carriera di... ma chi c'è entrato e all'inizio non c'era nessuno adesso sono entrati qualcuno di voi muore vabbè fanculo ancora tutte di ragliele da controlliamo la postazione c'è un cane da guardia delì no cazzo sono dentro c'è un incoglionito dentro lì no cazzo Marco postazione confermata postazione attivata controlliamo la postazione bomba planante alleata in volo il nemico ha un cane da guardia c'è sta di minchia c'è non abbiamo ancora perso dai immortal fenix rising cazzo postazione attivata la postazione è nostra ricognizione nemica ci spigliano da là cazzo sono in vantaggio sono in vantaggio loro maierio ricognitore nemico ha battuto cazzo morirai eh sta di cazzo è già andata la nostra porca miseria il nemico ha preso la postazione cazzo di uno siamo un svantaggio bomba planante alleata in arrivo ricognizione nemica ci spiano dall'alto mi vergogno per voi aereo ricognitore nemico ha battuto nuove informazioni pronte all'uso maierio eierio eierio mamma mia peccato è una bella partita è una bella partita sto donna le ha rotte i coglioni ancora ah no ma li chiamo a cazzo Marco Drums Marco Drums Marco Drums una mappa nel lab è che non fanno casa blanca mettete l'obiettivo in sicurezza sempre pronti sempre vincenti ci siamo presi stanno prendendo ciò che siamo presi stanno prendendo che belle partite che trova il marco ci prendiamo catturiamo io li aspetto di qua sicuramente mi arriva un coglione di fianco ci si commettoni bruciatevi arrivano da qua conquistiamo porca minchia stanno prendendo Charlie testa di minchia non becco mai nessuno con la granata siamo avanti dai ma come cazzo fanno a sparare così cazzo fanno aereo alleato in arrivo hanno conquistato baker hanno conquistato baker conquistiamo baker dai è arrivata da dietro ma non ci credo cazzo fanno a cazzo fanno a cazzo ciò che lei quella lì viene qua stanno prendendo charlie eccolo lì che arriva eccolo lì che arriva ti ho colpita comunque ragazzi il gioco per eccellenza eccolo tutti a livello di grafica di gameplay non ci siamo proprio c'è lui e bar siamo presi charlie tutti gli obiettivi sono nostri così che dovrebbe essere fuoco di mortaio via porca miseria c'era sempre uno nell'angolino perdiamo l'obiettivo charlie catturiamo Eibol ci prendiamo Eibol stanno prendendo Baker stanno prendendo tiratevi fuori da qui cazzo scorte acquisite perdiamo l'obiettivo Eibol conquistiamo Eibol conquistiamo Eibol è quasi fatta la vittoria è nostra prendiamo perca miseria mi ha visto mi ha fatto un disastro giù la testa bombardieri nemici ricognizione nemica ci spiano da un altro catturiamo Becker cazzarò la vittoria vittoria victory ma si con la pistolina lui è rambo oh 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 Sì. 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 Ho le informazioni pronte all'uso! Siamo in testa! Doppia uccisione! Teniamoci stretto il vantaggio. Ho quello che ci serve! Alla informazione. Informazioni cessate! Ricognitore in azione nell'area! Ricognitore in azione! Nuove informazioni pronte a l'uso! Ricognitore in azione! Scodiamole! Ricognitore in azione! Ricognitore in azione! Sì, sì, sì. 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 Sì.